Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione tra le province di Napoli, Caserta, Firenze e Ravenna ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli che ha disposto misure cautelari nei confronti di 13 indagati indiziati di associazione per delinquere dedita al contrabbando di sigarette provenienti dall'est Europa, 4 soggetti agli arresti domiciliari e 9 gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. A questi si aggiungono altre 6 persone nei cui confronti è stato notificato l'avviso della conclusione delle indagini. Gli indagati risultano a vario titolo responsabili dell'introduzione, vendita, trasporto, acquisto e detenzione sul territorio campano di tabacchi lavorati esteri. Contestualmente alle misure cautelari personali, le fiamme gialle all'esito di accertamenti economico-patrimoniali hanno proceduto anche all'esecuzione di sequestri di quote di tre società per via della sproporzione tra i redditi regolarmente percepiti e dichiarati e di reale tenore di vita. Le attività investigative anche di natura tecnica sono state condotte dai finanzieri della compagnia di Pozzuoli e hanno permesso di documentare l'esistenza di 5 strutture criminali operanti stabilmente e in forma associativa nei comuni di Quarto, Marano, Melito di Napoli, Mugnano e nel rione sanità del capoluogo partenopeo. Nel corso delle indagini, durate oltre due anni, sono stati complessivamente eseguiti 4 arresti domiciliari, 11 in fragranza di reato, denunciati 40 responsabili e sequestrati circa 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, 12 autoveicoli e 13 tra box e garage.